Un'altra norma che si occupa del tema è l'articolo 1,1 lettera A della legge 124-2007, che è quella che attualmente costituisce la Grundnorm, la norma fondamentale in materia di politica dell'informazione per la sicurezza. La legge 124-2007 è uno dei testi normativi peggio scritti, più confusi e incomprensibili del nostro vasto archivio normativo. Non è soltanto una questione di sciatteria o di scarsa capacità tecnica, ma potrebbero pensare maligni anche una questione di ciò che gli anglosassoni chiamano plausible deniability. Noi siamo stati abituati a pensare che le norme debbano essere chiare, immediatamente comprensibili e, nei limiti del possibile, facilmente interpretabili. Questo è il motivo per cui il Codice Civile, nelle preleggi, detta le regole per l'interpretazione della legge, e dice che, come sapete, la legge deve essere interpretata dando alle parole il loro senso proprio e via discorrendo. Ma quando la sintassi è confusa, quando il significato non è così immediato, si creano delle sacche di discrezionalità che consentono di operare facendo e negando nello stesso tempo. Vi faccio un esempio concreto che non riguarda l'Italia. La Corte Europea dei diritti umani ha recentemente sanzionato il Regno Unito per via del fatto che le sue procedure di gestione dei sistemi di sorveglianza di massa non erano sufficientemente trasparenti. Nella sostanza, se andate a leggere la sentenza, ho anche scritto un articolo, un breve commento su questo tema, credoperformiche.net, l'essenza della decisione della Corte è stata rilevare come la complessità burocratica della catena di comando nella gestione dei programmi di sorveglianza di massa fosse tale per cui chi operava materialmente poteva legittimamente operare nella convinzione di essere stato autorizzato e chi invece si trovava a vertice poteva negare in buona fede di avere autorizzato l'esecuzione di un determinato ordine. Questo approccio è tutt'altro che episodico o raro. Per esempio, e di questo do conto appunto nel libro National Security in the New World Order, negli Stati Uniti ci sono stati casi che poi si sono conclusi con la grazia concessa dal presidente degli Stati Uniti, all'epoca Ronald Reagan nel caso di specie, nei quali degli altri funzionari dell'FBI avevano palesemente violato una serie di ordini e di norme introducendosi nella casa di un whistleblower per prendere prove della sua attività, quindi uno Snowden, un Manning antelitteram, salvo poi appunto essere graziati dal presidente degli Stati Uniti e quindi con il motivo del... alla fin fine queste persone hanno operato nell'interesse degli Stati Uniti, nell'interesse della libertà e non hanno fatto nulla di male. E in particolare, andatevi a cercare il Church Report, che non è un breviario religioso, ma è un rapporto, un'indagine parlamentare coordinata appunto dal senatore statunitense Church, che negli anni 80, alla fine degli anni 70 se non ricordo male, analizzò tutte le politiche anche di targeted assassination della CIA e anche dal punto di vista dell'accountability, che non è la parola che tanto piace agli esperti con molte virgolette di GDPR, ma era appunto la parola che veniva utilizzata per attribuire la responsabilità dell'ordine di utilizzare mezzi materiali e senza mezze misure, ancora una volta perdonate il gioco di parole, per liberarsi di avversari politici. Un'altra norma di riferimento per quanto riguarda il sistema giuridico italiano è il decreto legge 21-2012 convertito in legge 56-2012, che regola il conferimento di poteri speciali in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Questa norma inserisce un ulteriore termine a fianco della triade tradizionale ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa dello Stato. Siccome non ci facciamo mancare niente, nel 2018 il recepimento della cosiddetta direttiva NIS, che sta peraltro, che è in fase di riscrittura, comincia a inserire il concetto di sicurezza cibernetica, concetto di sicurezza cibernetica che verrà poi ripreso nel 2019 con l'infame decreto legge 105-2019 convertito con legge 133, nel quale si parla di perimetro di sicurezza cibernetica. Quali sono i problemi causati da questa sciatteria definitoria? Quale che sia il motivo, incapacità di tecnica normativa, o invece conoscenza e pratica sottile della scrittura della norma in modo da renderla sostanzialmente criptica, quale che sia la causa di questa sciatteria definitoria, sempre sciatteria definitoria rimane. E attenzione, non è soltanto, come vedremo, non è soltanto un problema di vezzo accademico del giurista che vorrebbe che le norme fossero scritte in un certo modo. Il punto è che nel momento in cui non riusciamo a capire qual è la relazione fra i vari concetti, lo dico in termini estremamente sintetici, non possiamo andare a tracciare una linea netta fra ciò che diventa di competenza della magistratura e quindi è soggetto al sistema delle garanzie di tutte le parti coinvolte, ciò che invece afferisce al settore della pubblica sicurezza che, come sapete, essendo amministrativo di appartenenza, è un settore nel quale non operano tutte quante le garanzie. E a maggior ragione non riusciamo a trarre poi una distinzione fra il mondo della pubblica sicurezza e quello della sicurezza nazionale, che come potete immaginare ha tutta un'altra serie di logiche che vanno ben al di là del concetto o delle necessità di pubblica sicurezza vera e propria. Volendo tentare una operazione esegetica che è, visto lo stato normativo, veramente un atto eroico, nel momento in cui il decreto 105 2019 parla di tutela di sicurezza cibernetica come afferente alla tutela delle strutture necessarie al mantenimento di attività civili, sociali ed economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, vediamo che più che di sicurezza nazionale a questo punto stiamo parlando di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. Perché se andate a cercare le definizioni di pubblica sicurezza, anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, di questo parliamo quando si parla di ordine e sicurezza pubblica. Qual è la conseguenza allora di questa lettura della norma? Che se è così, la sicurezza, quella che adesso si chiama sicurezza cibernetica, cioè l'Agenzia per la Cyber Security e via discorrendo, dovrebbero appartenere al Ministero dell'Interno e non alla Presidenza del Consiglio. Perché questo? Perché se è vera la lettura che ho proposto e che è una lettura tecnica basata sulla comparazione fra le definizioni contenute nel Decreto 105 e le categorie tradizionalmente accettate a livello di Corte Costituzionale di Ordine e Sicurezza Pubblica, siamo nelle condizioni di dover dire che non è la Presidenza del Consiglio a potersi occupare di questi temi, ma il Ministero dell'Interno. Risultato pratico qual è? che lo Stato di fatto, e cioè il ruolo centrale assunto dalla Presidenza del Consiglio nel tema del governo della sicurezza tecnologica, cozza contro una lettura sistematica dell'Enord. Questo perché la legge 124 del 2007, che come vi dicevo è quella che compie l'ennesimo passo verso l'accentramento dei poteri e l'estensione dei poteri del Presidente del Consiglio, in realtà non dice che la sicurezza nazionale è un'attribuzione, è sotto la giurisdizione del Presidente del Consiglio, ma utilizza una locuzione confusa, una perifrasi e parla di alta direzione e responsabilità politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse per la difesa della Repubblica. Quindi in altri termini le agenzie, l'Aise e l'Aisi, l'MI-5 e l'MI-6, l'intelligence domestica e il controspionaggio, in realtà dovrebbero limitarsi a prendere informazioni da veicolare a chi poi per Costituzione ha il compito di proteggere lo Stato dalle minacce interne, Ministero dell'Interno, e dalle minacce esterne, forze armate. Nei fatti non è così. Non è così perché, come sapete, la Presidenza del Consiglio è entrata a gamba tesa in questi ambiti e ha avvocato a sé tutta una serie di competenze che o le sono state attribuite per legge o sono state acquisite di fatto, ma questo è... Attenzione, non sto dicendo che sia un male o che sia sbagliato, anche perché non siete certo venuti ad ascoltarmi per sentire le mie opinioni. Sto solo rilevando una discrasia fra la tecnicità della norma e la realtà della politica. Se avrete la pazienza di leggere un articolo che ho pubblicato sulla rivista trimestrale di Scienza dell'Amministrazione che si chiama appunto Covid-19 e tecnocontrollo troverete una nota nella quale ricostruisco il processo di progressiva espansione dei poteri del Presidente del Consiglio che nel corso degli anni, come nella metafora della rana bollita, e quindi parlo chiaramente non di una persona ma dell'istituzione, ha esteso i propri poteri e le proprie prerogative fino a raggiungere spazi come quelli di cui stiamo parlando oggi, fino a raggiungere vette come quelle di cui stiamo parlando oggi, che sarebbero state difficilmente giustificabili ai tempi. E tanto per darvi uno spunto, se andate a cercare la regolamentazione dello stato di emergenza nel sistema, troverete che lo stato di emergenza è una condizione di protezione civile che può essere dichiarata con una mera delibera del Presidente del Consiglio e che ha lo scopo appunto di attivare una serie di meccanismi di procurement ma non ha, non conferisce nessun potere per derogare a libertà civili e via discorrendo. La norma di riferimento sarebbe stata l'articolo 214 del TULPS che consente di dichiarare lo stato di pericolo pubblico nazionale e nel sistema della pubblica sicurezza l'emergenza sanitaria è anche appunto considerata come questione di pubblica sicurezza il che avrebbe portato al ruolo centrale del Ministro dell'Interno nel di concerto col Presidente del Consiglio ma comunque al ruolo centrale del Ministro dell'Interno nella gestione dell'emergenza nazionale. questo vi spiega o vi dà un'idea del perché non sia stata scelta questa strada che dal punto di vista formale era sicuramente quella più rigorosa e quella più corretta perché si sarebbe creato quel governo dei prefetti perché come sapete i prefetti sono l'articolazione territoriale del governo e in particolare del Ministero dell'Interno che ricordava ben altri tempi questo non per dire che ci fosse il pericolo di una svolta autoritaria in Italia ma la scelta di utilizzare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza forse è stata valutata troppo forte e quindi si è preferito compiere uno uno strappo che dal punto di vista giuridico credo non verrà mai rimarginato quello dell'utilizzo dei dpcm almeno in una prima fase senza una reale copertura normativa e ci sono dei saggi di illustri costituzionalisti che pur nella difesa dell'operato del governo parlano di sbavature ma ci sono anche provvedimenti del Consiglio di Stato e del Tarlazio che invece parlano di utilizzo del dpcm alla stregua di una sorta di potere di ordinanza che il Presidente del Consiglio non ha tutto questo perché è rilevante perché mentre si prendevano decisioni fondamentali per la sopravvivenza individuale e collettiva del nostro Stato l'utilizzo dei dpcm come sorta di executive order di tipo statunitense si estende anche ad aspetti di sicurezza nazionale nel momento in cui appunto si dovette gestire il postfatto dell'emanazione del Decreto-Legge 105-2019 ma su questo torneremo torneremo poi